Siamo Francesco Piccolo e Anna Elena Benini. Insieme abbiamo fatto questo documentario su Patrizia Cavalli, perché l'ammiriamo molto e l'amiamo molto, e abbiamo approfittato della sua amicizia per raccontarla. Volevamo raccontarla nella sua verità di grande poeta e anche di donna libera, spiritosa, anticonformista e siamo andati da lei con totale fiducia e ammirazione per farci raccontare la sua storia, la sua vita, il suo lavoro, i suoi grandi incontri e lei con fiducia ci ha offerto se stessa anche anche il suo carattere, le sue intemperanze che noi abbiamo molto amato e siamo stati felici di poterle mostrare a tutti. Di noi siamo stati molto orgogliosi di aver fatto una cosa per Patrizia Cavalli. E siamo felici che adesso tutti possano vederla e ammirarla così come l'ammiriamo noi.